Immaginati di avere un contenitore, un contenitore che può contenere 100 palline, ok? Diciamo che quando tu lavori metti dentro 20 palline, ok? Quando tu vai in palestra ne metti dentro altre 20, poi, che ne so, litighi con tua moglie e ne metti dentro altre 10. Cioè, quelle palline sono lo stress, barra, come dire, degli input che riempiono il tuo contenitore. Quando il tuo contenitore arriva oltre i 100, tu hai il dolore, o il fastidio, o la problematica. Fitness, benessere e lifestyle. Questo è Tonificazione e benessere podcast. Io sono Cristian Bocceda, personal trainer certificato, fitness nutritionist e appassionato del benessere a 360 gradi. Grazie a questo podcast voglio aiutarti a ottenere un fisico tonico, a rimanere in forma e a sentirti ogni giorno al massimo delle tue energie. Benvenuti in questo nuovo episodio di Tonificazione e benessere podcast. Oggi andremo a parlare di un argomento fastidioso. Quindi tutti quei dolorini articolari, mal di schiena e mal di collo cervicale che ci hanno colpito tutti quanti in passato. Ne parleremo con un ospite, osteopata, mastoterapista e studente di poliologia. Diamo un benvenuto a Simone Lamanna. Buongiorno, ciao a tutti. Come ha anticipato Cristian, appunto io mi occupo di terapia manuale, principalmente in campo riabilitativo e in campo sportivo. Mi ha interessato molto l'argomento che ha proposto Cristian in quanto è frequente nella mia pratica clinica incontrare persone con problematiche derivate dall'allenamento. Per risponderti i principali fastidi che riscontro sono legati alla parte muscolare, nelle zone del collo, della bassa schiena, delle spalle e spesso sottovalutati dolori dall'avambraccio. Più articolarmente invece abbiamo bene o male o gli arti o comunque sempre si chiamano cerniere, sono punti di snodo del corpo come tra la parte dorsale e la parte cervicale, appunto tra la parte lombare e la parte più del bacino sacrale. Le altre cose che capitano molto spesso sono in generale rigidità, perete di forza oppure dolori diffusi, nel senso che dalla schiena vanno giù alle gambe o appunto dal collo vanno giù sulle braccia fino ai mani. Quindi diciamo che questo è un piccolo esplorato delle cose più frequenti che mi vengono riferite, che io collego poi a tutto quello che è l'ambito della pesistica, del fitness. E quindi contrariamente a quanto si pensa che i dolori principali possono verificarsi soltanto sulla schiena o eventualmente sul collo, in realtà durante la tua esperienza lavorativa hai notato differenti fastidi anche in altre zone del corpo che ti riferiscono le persone. Ma assolutamente, assolutamente, anzi paradossalmente quando hai un po' di mal di schiena dici cacchio c'ho un po' di mal di schiena, faccio un po' di allungamento e mi passa. Io ti assicuro che quando c'hai male al piede o c'hai male alla mano, cioè male alla mano che non riesci a scrivere o male al piede che non riesci a camminare, cioè è più in quel momento che vai a cercare delle cose perché è molto più fastidioso e molto più frequente l'utilizzo di un gesto fine piuttosto che di un gesto, tra virgolette, grossolano, ecco. Quindi è frequente che uno vada a consultare un terapista per una cosa meno usuale, ecco, per quanto poi magari l'incidenza sia differente, però ti dico da me vengono principalmente per queste cose qua. Quindi dici che spesso un fastidio alla schiena potrebbe essere sottovalutato perché è cosa più frequente, quindi magari si accusa un leggero fastidio, rigidità lombare, uno pensa ma si è causato dalle tante ore che sto seduto, ho alzato quella cassa d'acqua in modo sbagliato. Quindi si prende molto più a leggera rispetto a quando si accusa un fastidio insolito come può essere una mano a un piede che, come dici, può essere anche più doloroso. Assolutamente sì, soprattutto infrequente e poi, tornando su quello che hai detto prima, la lombalgia, c'è una roba che è super sottovalutata, ma se noi andiamo a vedere nella lettura scientifica quante cause possibili abbiamo alla lombalgia, cioè, non finiamo più, partiamo dal sollevato male alla cassa d'acqua e finiamo a, cioè, ho un aneurisma della orta addominale, piuttosto che ho, cioè, un tumore, nel senso, ci sono 750.000 cause l'antista di fatto che le persone sono abituate ad avere mal di schiena, cioè, ho un fastidio, no, banalmente, ho dormito male, cioè, perché non esiste ho dormito male, cioè, non, io non ho mai visto una persona che dormendo male, perché tu quando hai male in una posizione di dormi, ti giri, cioè, a meno che non abbia 70 anni e 25.000 dolori, allora, che dormi in posizione estranea, ma in una posizione di normalità, cioè, ho dormito male, non è la posizione del sonno che è scorretta, è tutto il contorno che ci sta, cioè, perché dormi così, devi chiederti, ci sono altre, diciamo che, ecco, possono essere, non dico delle sintomatologie, ma bisognerebbe andare ad indagare altro, ecco. Quindi, ricollegandomi a quanto già stavi anticipando, quali potrebbero essere le principali cause che stanno all'origine di tutti questi fastidi, al di là di magari una persona che capita che una notte dorme in posizione insolite e lì poi raggiunge l'apice del dolore, ma da dove provengono all'origine tutti questi fastidi di schiena, collo e anche gli arti che anticipavi già prima? Allora, facciamo una promessa, il dolore è un sintomo, ok? Non è una causa, cioè, quindi, quando io ho un dolore, il mio corpo mi sta dicendo che qualcosa non funziona, ok? E non è detto che sia lì quello che non funziona, ma non perché vogliamo andare a fare dei collegamenti strani, ma per il semplice fatto che, per il tipo di sistema su cui si muove il dolore funziona così, le cause sono un'argomentazione molto interessante, come dire, io parlerei di fattori di stress innanzitutto e parlerei di, ti vorrei fare un esempio, no? Immaginati di avere un contenitore, un contenitore che può contenere 100 palline, ok? Diciamo che, quando tu lavori, metti dentro 20 palline, ok? Quando tu vai in palestra ne metti dentro altre 20, poi, che ne so, litighi con tua moglie e ne metti dentro altre 10, cioè, quelle palline sono lo stress, barra, come dire, degli input che riempiono il tuo contenitore. Quando il tuo contenitore arriva oltre i 100, tu hai il dolore, o il fastidio, o la problematica, che nel caso di chi, appunto, frequenta la palestra, cioè, sono quelle cose che abbiamo detto prima, nel senso, bisogna andare a cercare, ovviamente, quando non si parla di patologia, quindi non abbiamo una compromissione di una struttura, parliamo di persone che stanno bene, ok? Dobbiamo parlare di stile di vita, quindi, alimentazione, fumo, uso di alcol, come riposi, ma come riposi vuol dire quante ore, quando dormi, cioè, come vivi, e bisogna analizzare tutte queste cose e andare a capire perché sei arrivato a quella situazione, ok? Ma anche da un punto di vista più meccanico, cioè, io mi alleno in una posizione che è scorretta, perché? Mi alleno scorrettamente perché non mi so allenare, perché mi so allenare ma non riesco a stare in una posizione, cioè, l'argomento delle cause è molto, molto articolato. Diciamo che in un contenitore relativamente pieno, ok? Le cause principali sono esecuzioni scorrette, quindi, voglio fare un'alzata che non so fare o che il mio corpo non è in grado di fare, carichi sbagliati, quindi, cioè, voglio tirare su delle robe che non posso tirare su, ma perché il mio sistema nervoso, il mio sistema corpo, in realtà, non è pronto ad affrontare quello stress, oppure traumi, cioè, nel senso, banalmente, sono scivolato, mi sono distratto, quel giorno ero stanco, cioè, dipende, nel senso. Però, ecco, principalmente le cause io le darei, in generale, allo stile di vita, nello specifico a tutto quello che è dei fattori di stress superiori al normale, tutto qua. Diciamo che quando iniziano a comparire i primi fastidi, non sono dovuti a una singola causa in particolare, ma, per esempio, nella vita di tutti i giorni possono essere la somma di più stress, di più cause, quindi, da quello che può essere lo stress causato al lavoro, le poche ore di sonno, l'alimentazione scorretta, e poi, in generale, proprio nel cronico, continuare a stressarsi, riposare male, e gestire male tutte queste variabili, per molto tempo. Assolutamente, guarda, c'è da fare una distinzione, poi, sul, diciamo, parliamo sempre dei fastidi, no? Diciamo che, in generale, noi abbiamo tre tipologie di fastidi, ok? Al di là della localizzazione del dolore, tu hai un dolore che può essere acuto, hai un dolore che può essere cronico, o hai un dolore che può essere cronicizzato. Qual è la differenza? Che un dolore acuto ha una manifestazione molto forte in un piccolo tempo, esempio, ho sollevato male quel peso, ok? Mi è venuto lo stiramento al collo e c'ho malissimo, non mi muovo, dolore acuto. Il dolore è cronicizzato, è un dolore che c'è e non c'è, e anche se tu ci lavori sopra, continua a ripresentarsi, ok? E questo vuol dire che c'è qualche elemento che, o qualche abitudine, che continua a riportarti quella roba lì. Facciamo un esempio esente dalla terapia manuale. Ho sempre mal di schiena, ok? Lombare. Io mi diverto tutti i giorni a uccidermi da KFC e da McDonald's. Quello è uno stress cronico, ok? Che non è che ti causa un dolore cronico, ma un dolore cronicizzato. Nel senso che ogni volta che vai a mangiare molto male, hai quella sintomatologia lì di problematica lombare. Ma perché non tolleri quel tipo di alimentazione? Mentre il dolore cronico è dato solitamente ad un'alterazione anatomica, ok? Esempio, mi sono erniato quattro vertebre e soffro di una rigidità lombare molto forte. Le vertebre rotte ce le ho, il dolore non è forte, ma è costante nel tempo, perché è cronico. Quindi quello che puoi fare è gestirlo, ecco, tramite diverse strategie. Però a me, ecco, è importante fare anche questa distinzione, perché non si sa molte volte cosa si ha o come ci si debba agire. Solitamente chi ha una problematica cronica lo sa, nel senso che ti dice, guarda, io vent'anni fa mi sono spaccato questa cosa e da vent'anni ho male a questa parte, perché c'è questa connessione. Benissimo. Chi ha un dolore acuto, un dolore cronicizzato, invece molte volte, cioè, se lo porta dietro. Il discorso è che poi queste due tipologie possono sfociare in un dolore cronico, ma è come se io volessi fare i bicipiti, non so, con quella caviglia. Cioè, prendo il manubrio, cerco di salvarla con la caviglia, dopo due anni che lo faccio, la mia caviglia non è che ringrazia. Avrà un'alterazione e quindi avrò una problematica che va adesso, può diventare cronica. Tutto chiarissimo, direi. Ricollegandomi a quanto stavi dicendo adesso. A me personalmente capita di vedere in palestra tante persone, principalmente magari ragazzini che stanno tra i 16 e i 20 anni, diciamo, che hanno delle esecuzioni, degli esercizi scorretti o comunque hanno un allenamento impostato completamente male, ma sia a livello di, per la loro struttura, a livello anatomico, sono proprio fuori esecuzione, diciamo. Inizialmente magari non presentano fastidi, diciamo, riescono a continuare ad allenarsi, magari hanno anche dei miglioramenti estetici, muscolari, quindi diciamo che a loro sembra che vada tutto bene. Cosa può comportare, sul lungo termine, un allenamento protratto con delle esecuzioni completamente errate e magari ingestibile per la loro struttura? Non cose buone. Prima cosa, fino ai 25 anni noi cresciamo, cioè nel senso che l'ultimo punto di crescimento del corpo è nell'osso sacro e si chiude a 25 anni, cioè quindi noi fino ai 25 anni siamo in crescita. Quindi già questo deve farci davvero stare attenti a come gestiamo i carichi, perché possiamo ancora avere una modificazione che poi, dopo i 25 anni, all'ultima è così e basta, cioè non è che la puoi cambiare. Una volta che le osse si sono formate, fine della storia, cioè te la tieni così, i ragazzi di 3, 16 e 20 anni sottovalutano la pesistica, sottovalutano l'importanza di allenarsi bene, ma è come se io andassi a giocare a tennis e praticamente prendessi la racchetta e colpissi la pallina. Cioè non riesci a giocare a tennis, perché? Perché non hai fondamentali, perché non conosci le tecniche, cioè la palestra è vista come una cosa massiva, ma sì vado in palestra, faccio due cose, fai un po' così, un po' così, ma non funziona così, ma non funziona così perché è dannoso per la salute, cioè sul lungo tempo che cosa ti fa? Ho fatto quelle robe che ti ho detto prima, cioè ha problematiche croniche, ti arriva gente che ha un petto enorme, due bicipiti enormi e poi ha le spalle che mia mamma c'è, è più grossa, ma perché? Per il semplice fatto che è sbilanciata e questo sbilanciamento posturale è di causa del problema. Posturale che cosa vuol dire? Perché anche lì no? Parola postura. La postura che cos'è? È la risposta muscolare alla forza di gravità, ok? Che mi fa atteggiare in un modo. Se io ho bene o male un buon bilanciamento delle catene muscolari, ho anche una buona postura, perché gestisco la forza di gravità e tutte le forze a cui sono sottoposte in un certo modo. Se mi alleno di merda e sono molto forte davanti e poco forte dietro o viceversa, non gestirò queste cose e quindi avrò un lavoro molto più frequente e molto più forte di una parte rispetto ad un'altra. Su un lungo periodo porta a problematiche anche non indifferenti, nel senso che comunque è un equilibrio anteriore molto forte, il che predispone di stare molto in avanti. Non è che il rischio sul breve periodo è un dolore al collo, ma un rischio, se vogliamo guardare, a 40 anni è una rettilizzazione del tratto cervicale e del tratto lombare, una probabilità molto più alta di ernia, soprattutto dopo i 40 anni, perché va ad aumentare questo indice in maniera spropositata, e problematiche, non so, di tipo magari nervoso, cioè ho una compressione di una radice nervosa e una sciataggia, una parestesia agli arti, cioè, e questo ha 40 anni. A 70 anni questa cosa può determinarmi, cioè che sono tutto gobo in avanti e ho un'alterata funzione respiratoria, perché la mia gabbia non si può più espandere, cioè dipende a quanto lontano vuoi guardare, però l'attività della palestra si chiama preventiva e adattata, no, come nelle scienze motorie, per questa motivazione qui, perché uno deve guardare, cioè, il percorso, il lungo, ti ho risposto? Ok, ok, quindi diciamo, diamo un consiglio magari principalmente ai più giovani, ma in generale anche a chi inizia ad allenarsi in palestra, ma anche al di fuori, chi inizia a intraprendere un percorso di attività motoria e sportiva, tieni sia fondamentale prima di, appunto, iniziare un allenamento intenso e pesante, di imparare tutti i movimenti e le tecniche adeguate, e poi di conseguenza programmare in modo corretto e bilanciato tutti i vari movimenti, perché si possono poi incorrere sul lungo termine a tutte queste varie patologie e problemi non da sottovalutare, direi. No, ma non è che ho un consiglio, dovrebbe essere un obbligo, ma dovrebbe essere un obbligo perché, come dire, voglio fare la laurea in medicina, voglio fare la laurea in giurisprudenza, mi voglio iscrivere, però non ho neanche la prima elementare, cioè, dove vuoi andare? Non sai neanche l'alfabeto e vuoi fare i master, vuoi fare, nel senso, ti mancano le basi. Poi c'è chi impara prima e impara dopo, chi è più appassionato e chi è meno appassionato. E' troppo importante imparare a fare le cose in maniera corretta, ma in qualsiasi cosa, cioè, possiamo anche non metterla sullo sport, è una logica mutuabile a qualsiasi dimensione, con la differenza che in questa dimensione ne va veramente della salute delle persone, cioè, anche perché si parla tanto di fitness, di salute, il tuo podcast si chiama Tonificazione e Benessere, volendo stare anche solo su questi due argomenti, cioè, banalmente, avere qualcuno che ti segue vuol dire, nell'ambito della tonificazione, avere dei risultati molto più veloci, stabili e duraturi. Per quello che riguarda il benessere, vuol dire, cioè, stare sempre meglio, ok? Perché non è che andare in palestra è una cosa che ti deve fare male, ma significa avere una situazione di benessere, altrimenti, cioè, è che andiamo a farci del male. Ma com'è che si ottiene questo stato? Si ottiene con coscienza e affidandosi a persone che sanno prendersi cura delle dimensioni che abbiamo appena citato, altrimenti non è possibile raggiungere questi obiettivi o magari qualcuno, come hai detto prima, ci riesce, ma nel senso la percentuale di persone che riescono a raggiungere quei risultati autonomamente è veramente bassa e comunque sono soggetti che magari sono molto pignoli, molto ligi, studiano da soli, cioè, comunque si autoformano, ma quante, la domanda che ti faccio è quante persone sono realmente disposte a dedicare del tempo extra, quello del gesto atletico, a capire come funziona un mondo che è bastissimo, cioè, corsi su corsi su corsi, su libri, su teorie, scienza, eh, e cazzo, arriva quell'ora e ti dice, eh, mica, ma io ho 30 anni che lo faccio così, però poi dopo, dopo i 40 anni, dopo i 50 anni, la percentuale di persone che vedi allenarsi in palestra è drasticamente più bassa, perché? Questo lo chiedo io a te, perché? Perché sono messi fuori gioco ormai. Che c'è tutti qualcosa, eppure lo stress di vita, il tempo da gestire, bene o male è sempre lo stesso, cioè, la generazione degli anni 70, degli anni 80, no, del mangia e spingi, che vedevano Arnold, vedevano, sono cresciuti con il mito dei bodybuilder, che sono appunto la generazione di 50 anni, 60 anni, io in palestra, veramente, ne vedo veramente pochi, nei miei studi, cioè, negli studi dove vado, ne vedo veramente tanti, cioè, che dicono, no, ma io ho fatto per 20 anni palestra, poi questa spalla, cioè, mi ha dato fastidio, ed è 15 anni che mi dà fastidio, ma non ci ho mai fatto niente, e tu gli devi guardare, e dici, ok, e adesso, e comunque cerchi di dargli una mano, ma il danno tra virgolette è stato fatto. Infatti, guarda, la domanda che ti avrei fatto adesso era proprio una cosa che mi capita di sentire tutti quanti i giorni, da persone magari più over 30, 40, per esempio, li vedo fare una lat machine dietro la testa, o delle distensioni verticali, come military press, o red press, sempre dietro la testa, o, per dirti, delle tirate al mento fatte malissime, comunque esercizi abbastanza pericolosi, però che hanno, sono nati magari appunto negli anni da bodybuilder, e di cui hanno preso spunto, mi dico, ma l'ho fatto per una vita intera, però questo fastidio mi è comparso adesso, sono cose poi che pensi sia risolvibili, o era meglio magari pensarci 20 anni fa, prima di iniziare a fare queste cose scorrettamente, e imparare la giusta tecnica e i giusti movimenti, fin da subito? Beh, quello, cioè, imparare la giusta tecnica e i giusti movimenti è sicuramente la soluzione migliore, cioè, nel senso che, sarebbe basilare, per quanto riguarda la risoluzione, cioè, di risolvere determinate problematiche dipende, cioè, quanto è compromessa la struttura, cioè, abbiamo avuto un'alterazione anatomica, te la devi tenere, cioè, te la tieni, e hai delle limitazioni a vita, fine della storia, cioè, hai un handicap, ma te lo sei creato da solo, perché? Perché negli anni 70, cioè, c'era la caccia di inventare l'esercizio migliore, oppure, come dire, il workout migliore, si provano cose a caso, cioè, vigeva, come dire, l'empirismo, io provo, adesso non siamo più sul provo, diciamo, nella metà degli anni 90, è subentrata quella che si chiama evidence-based medicine, che ha incominciato a tracciare delle linee guida, per, come dire, aiutare le persone a indirizzarsi, ma è uguale nel, cioè, ormai negli ultimi 15 anni, quanta scienza è entrata nel bodybuilding, cioè, tantissima, ma fortunatamente, perché abbiamo incominciato a dire, questo serve, e questo non serve, ma perché? Perché andiamo a tutelare la salute, e il benessere delle persone, cioè, questo è il discorso, quando io vedo uno che mi dice, sono i 30 anni che lo faccio così, e, e non si è rotto, ma, io sono contento per lui, però, cioè, il fatto che per lui abbia funzionato, non significa niente, perché nella sua omicità anatomica, cioè, c'è gente che, che cazzo ne so, si dà fuoco e non si brucia, c'è gente che è allergica all'acqua, c'è gente che, che mangia, cioè, banalmente, cioè, tu ti bevi il latte e stai bene, io mi bevo il latte, e vado in bagno, di diversamente, perché io possiedo degli enzimi, e tu non li possiedi, però, se andiamo a vedere, eh, lo sviluppo dell'uomo, a quattro anni, perdiamo la lattasi, fisiologicamente, e, eh, non tolleriamo più, il galattoso, che è lo zucchero del latte, come lo dovremmo tollerare, come lo tolera un bambino, come un neonato, cioè, perché? Perché il nostro corpo funziona così, poi qualcuno non è così, buon per lui, ma io devo, io che sono un operatore, devo, applicare una cosa che, vada bene per la maggior parte delle persone, poi, conoscerai tu i tuoi clienti, io i miei pazienti, e cercherò di offrirgli una cosa, che è più su di loro, eh, cioè, non so come dire, non è che posso provare, poi, vabbè, la machine dietro la testa, cioè, oramai, sono trent'anni, che non, che si sa che è sbagliata, cioè, sbagliata, che non è un movimento, che si è, che segue dei piani, articolari, fisici, fisiologici, no, non, no, poi, se sei, se sei il super lasso, se, se, se ce la fai, bene, ma io stesso, non, se dovessi fare quell'esercizio, non avrei problemi, perché ho una struttura un po' particolare, a livello fisico, però, non, non lo consiglierei a nessuno, ma come, cioè, quelle robe che si inventano, certi influencer su Instagram, per, per fare hype, va bene, però, devono, cioè, bisogna capire che poi le persone seguono queste cose, e che, eh, bisogna, dare una cosa che sia appunto, più riproducibile, più, più fruibile per tutti. No, no, su questo condivido assolutamente, infatti direi che è importantissimo andare a personalizzare poi su ogni persona, ognuno di noi è diverso, non, non si può ragionare per, per dei metodi, o riprodurre quello che si vede appunto su Instagram, o quello che fa il grosso della palestra, perché, come diciamo prima, magari tu o un'altra persona fa la latmashin dietro la testa per 30 anni, sta sempre bene, fa un esercizio fatto malissimo, prendi l'esempio di me, per me personalmente, se io faccio un'alzata laterale un pochino più alta, o sollevo qualcosa da terra in modo sbagliato, mi capita subito uno stiramento, un'infiammazione, e quel fastidio mi rimane per sempre. E da lì, quindi, anche, anch'io personalmente, anni e anni fa da ragazzino, notando subito i primi fastidi, ho iniziato a informarmi, capisco poi benissimo che questo non sia di interesse per tutte le persone, soprattutto magari, per chi nasce con una genetica, una struttura più fortunata rispetto a qualcun altro, fa le cose sbagliate per una vita intera, non si informa di conseguenza perché non gli interessa, ma lì direi che sarebbe il caso di fermarsi un attimino e non andare a consigliare poi al mondo intero le stesse cose che fa lui, anche perché poi vai a creare danni, e purtroppo di pseudo-gure professionisti nel settore che fanno questo, quindi vanno a lavorare per quello che hanno fatto su di loro, ne esistono moltissimi direi, questo è un po' uno dei problemi attuali che troviamo nel settore, principalmente nel fitness penso, ma magari anche nel tuo campo capita qualcosa di simile. Cioè si capita nel senso che allora è una delle cose che a me non piace del settore del fitness è questa, cioè che ognuno dice quel cazzo che pensa, cioè purtroppo proprio nel fitness non è che c'è una laurea per fare il fitness, cioè scienze motorie non è una laurea che ti dice che sai insegnare in palestra, la scienze motorie studia le scienze dei moti, cioè nel senso non significa niente sugli sport, il calcio, il basket in generale. Questo secondo me è uno dei principali proveri, cioè non esiste una formazione universitaria per chi vuole fare, per esempio, l'istruttore di moti building, cioè dovrebbe essere una laurea, ma perché tu lavori con la salute delle persone, e invece quanti soldi hai speso in corsi, in libri, in informazioni specifiche su quello che fai, ok? Cioè per l'esigenza di, come dire, di formarti in un certo senso. Nel mio settore, allora, la fortuna è che io se tu non hai nessun tipo di titolo o premesso che nel tuo campo non esiste, nel mio esiste, io ti denuncio, cioè nel senso, ti denuncio perché sei pericoloso, ma a me arriva gente che dice, cioè, sono andata al centro massaggi e mi ha massaggiato con le ginocchia nella schiena, cioè ma non esiste, ma non esiste quella roba lì, cioè che uno ti sale con le ginocchia sulla schiena, cioè non è una roba che fai per la tua salute, è una cosa che, come dire, non lo so, però guarda che ci sono persone che hanno avuto veramente problematiche per queste cose, ma banalmente anche gente che dice, che si improvvisa a, so, a fare manipolazioni o a ostentare cose che, cioè, ti assicuro che se vai solo a dare un occhio nel mondo di cose che devi considerare quando fai una roba, basta, cioè, ti perdi. Questo non vuol dire che non debba farlo più nessuno o che arrivare a fare, adesso io sono professionisti del settore, sia una cosa impossibile, però bisogna fare, cioè, bisogna avere delle basi solide e lavorare con quello che si sa fare, cioè, se io so fare altre cose, lavoro con altre cose e poi ne imparo una quarta, benissimo, faccio quella quarta. È un tasto veramente dolente, soprattutto in Italia, perché, cioè, nel campo del fitness, cioè, nel senso dove la gente è abituata a non avere risultati perché è abituata a essere seguita da persone che non capiscono un cazzo, puoi trovare, cioè, tutte queste persone che non capiscono niente, che cosa fanno? Buttano cacca su tutte quelle persone che invece si fanno un paiolo grosso come una casa per fare informazione, per, come dire, per aiutare sul serio le persone. Nel mio settore, invece, cioè, banalmente, se stai male non ci torni, cioè, quindi fai la brutta esperienza, però poi non ci torni, sì, ti sei fatto male, mentre nel fitness, cioè, c'è gente che dice, no, ma io ho 40 anni, vado a farmi seguire da lui, è bravissimo, e poi gli fa fare la panca piana con le gambe sulle volte, cioè, e ti dice, ok, va bene, ok, grazie, va benissimo. Ok, diciamo che, in ogni caso, sarebbe importantissimo sempre affidarsi a un professionista o chi, nel tuo caso, più della terapia manuale, a chi ha dei titoli verificati, magari non, a un massaggiatore improvvisato, specialmente per risolvere delle patologie o dei problemi particolari. No, ma infatti, oddio, ti dico, il corso da massaggiatore esiste del biennale, cioè, praticamente, tu per fare un massaggio devi studiare due anni, cioè, per fare un massaggio bene, no, con una cosa che abbia un senso, due anni. Cioè, tu spiegami, io in un weekend, come faccio a diventare un professionista della salute, ok, ma manca del benessere. Cioè, l'estetista, tutti fa tre anni di scuola, scusami, cioè, io non capisco. Cioè, tutte le cose, tutti studiano, e invece arriva gente che, cioè, praticamente, prende e gioca con la salute. la cosa grave è che queste persone giocano per lucro, cioè, sulla salute delle persone. No, va, bene. Poi, guarda, un conto se fai l'istruttore di sala, pesi, e dici, vabbè, il mio compito è bene o male sistemare la sala, e dare delle indicazioni generali di utilizzo di alcuni macchinari, appunto, o somministrare delle schede di base che sono fondamentalmente preimpostate, quindi, gli impari a avere quelle quattro cose, gli spieghi, ma benissimo, cioè, non è una roba che non si fa o non si può fare, è fattibilissima. Ma quando tu ti poni di portare una persona da un punto A a un punto B e gli chiedi dei soldi, cioè, devi veramente dargli una sicurezza, ma non solo del risultato, ma anche di del fatto che tu hai consapevolezza dei passaggi e delle fasi che quella persona sta affrontando. Ok, ma basta metterci un po' di intelligenza, cioè, non serve, come dire, essere i must del settore, anche perché non devono andare a fare la gara sul palco, capisci, ma molte persone vogliono veramente soltanto essere tranquille, di allenarsi bene con un obiettivo salute, neanche fitness, cioè, io voglio sentirmi meglio, ok, senza per forza dimagrire o pesare meno, ma voglio fare un'attività che sia, per me, la più corretta possibile, cioè, secondo me questo è il punto. Sì, sì, poi diciamo che per la persona media, diciamo, sentirsi bene, ma anche ci inserirei, vedersi meglio, quindi migliorare sia esteticamente che a livello di benessere, energie, quotidianamente non è necessario poi avere delle programmazioni di allenamento, di dieta così super complesse come necessita un atleta, diciamo, basterebbe seguire un po' un filo logico e non fare cose campate per aria o robe strane viste da non si sa dove, basterebbe avere un po' di buon senso per avere un percorso alla fine utile che porterebbe portare dei risultati comunque ottimi. Non è semplice, nel senso che il problema più grosso è l'indirizzo di queste, cioè delle persone che non sanno come indirizzarsi. Questa è, secondo me, la problematica più grossa, che io non so a chi rivolgermi e non ho delle garanzie, ma hanno fatica a rivolgere le persone, hanno fatica rivolgersi anche a me, ma oramai hanno fatto che rivolgersi anche al medico, perché è dove tutti ti vengono tutto e non si capisce più nulla. Quindi, come dire, molte volte bisogna anche fare affidamento sull'intelligenza, alla fine le persone che si rivolgono a te sono persone che sono intelligenti, ma sono intelligenti perché capiscono il valore del tuo lavoro e, oltre che percepirlo da un punto di vista, cioè, come dire, parlando con te, capendo che sei riparato, lo percepisco da un punto di vista personale. Io mi sento meglio e questo che loro, di cui loro hanno bisogno è questo quello che un professionista, secondo me, ha il dovere di garantire a chi si rivolge a lui e lo rende professionista, ok? ovvero una persona che ha in mano una professione professionale. È un argomento molto complesso. No, su questo condivido pienamente, diciamo, consigliamo tutti quanti di rivolgersi a un professionista serio e, diciamo, di filtrare nella marea di informazioni che ormai ci sono online, ma anche di persona, andare a ricercare le cose vere e utili. Comunque, ricollegandomi, c'è un po' all'argomento dei fastidi e dolori. Una volta che una persona ormai gli accusa, magari anche da un po' di tempo, come dovrebbe procedere per andare a risolvere? Quale iter seguiresti tu per risolvere questi problemini che ci affliggono? Allora, l'iter, come dire, anche lì dobbiamo distinguere sempre il tipo di problematica. Diciamo che una problematica in generale quando tu ti vuoi rivolgere a un professionista della salute, quindi un professionista sanitario, devi passare dal medico. Ok? O per lo meno il medico deve dirti guarda che hai bisogno di questa cosa anche se è più che palese. Ok? Però, per la legge italiana tu devi avere una prescrizione medica. Cosa numero uno. altrimenti la tua prestazione non è sanitaria ma la prestazione è benessere. Sono due robe differenti. Ok? Diciamo che la prima cosa che ho fatto è la valutazione della salute. Cioè, allora, io da paziente e o da cliente non devo fare niente se non dire ho questo problema da questo tempo e mi è venuto in seguito a questa cosa. poi lì il professionista andrà a indagare tutta una serie di cose tipo i fattori di stress tipo i traumi progressi come riposi le patologie i farmaci l'alimentazione e andrà a cercare di individuare diciamo delle cause delle cause. Il primo lavoro che va fatto cioè ti ritorno anche lì sempre sulla differenza che ti ho fatto sul dolore acuto dolore cronico dolore cronicizzato. un dolore acuto va trattato in maniera abbastanza decisa nel senso che se tu mi arrivi e che sei bloccato con la schiena io devo andare subito su quel punto e trattarlo in maniera decisa ok? Per dare subito un sollievo della sintomatologia e dopo andrò a sviscerarmi il contesto a capire perché ti è venuto perché non ti è venuto cioè ed è una roba. Per quanto riguarda il dolore cronicizzato l'analisi è un pochino più complicata perché mentre io quando prendo un trauma e ho una problematica più acuta so che il problema è lì quando il dolore è cronicizzato devo andare a capire quale elemento del corpo mi cronicizza quel dolore e poi andare a lavorare su quell'elemento per fare in modo che quando poi andrò a lavorare di nuovo sul sintomo quel sintomo non si ripresenta mentre nel caso delle problematiche croniche ecco questo è un argomento già più interessante nel senso che trovo molto importante il tuo lavoro nella gestione di queste problematiche in quanto sono sempre presenti ok il dolore cronico non passa ma viene gestito per quello che riguarda diciamo il mio lavoro viene gestito da un punto di vista molto globale quindi non vado mai sul problema cioè non lavoro sull'alterazione anatomica ma lavoro tutta la capacità del corpo di compensare e lo faccio fino a un certo punto ma è un lavoro di equip perché poi queste persone se per esempio hanno un mal di schiena e non lavorano sulla parte muscolare cioè su una parte veramente più proattiva cioè non una mobilizzazione passiva o una manipolazione non vanno a risolvere questa cosa e non riescono a gestire il dolore cioè il movimento è antalgico quindi diciamo che il bodybuilding barra l'attività in palestra secondo me è la più indicata ma perché è l'unica attività che ti consente di tarare qualsiasi parametro di un esercizio dal carico al tempo sotto pensione all'esecuzione che è personalizzabile cioè puoi curare tutti gli aspetti mentre se io vado a fare nuoto per esempio cioè anche lì piantiamo la questo mito che il nuoto sia la panacea di tutto cioè una volta non sapevano che cazzo dirti e ci dicevano vai a fare nuoto perché la la come dire sei sottoposto sei sottoposto alla gravità in maniera diversa in acqua e quindi hai meno male va bene ma non è specifico cioè se io ho un ernia che è un problema cronico perché l'ernia te la tieni cioè si risolve ma te la tieni per arrivare a una situazione di non dolore io devo lavorare su tutta una serie di di catene muscolari su una serie di mobilizzazioni per ripressionare un tipo di equilibrio ed evitare che ci sia una compressione nervosa altrimenti io il male me lo tengo cioè me lo tengo anche se nuoto questo è il discorso che bisogna uscire un attimo dei luoghi comuni andare a colpire cioè andare su delle tematiche delle cose che funzionino ok perché lo vedrai anche tu con i tuoi clienti che quanti ti hanno detto cazzo ma sai che da quando mi alleno con te ho smesso di avere dolore e sto meglio o meno male alla spalla o meno male alla schiena ma perché perché te lo dicono perché comunque sono più bilanciati su quel discorso che abbiamo fatto prima delle catene e c'è delle catene muscolari e riescono a gestire il loro fastidio in maniera diversa oltre a togliere un fattore di stress cronico dato da un allenamento fatto di merda non male di merda cioè è pericoloso sei stato sei stato super chiarissimo e hai già praticamente risposto in modo già completo anche a quello che ti avrei chiesto adesso che è comunque visto che ormai viviamo in un mondo dove passiamo dalle 8 alle 10 12 ore seduti in ufficio al computer spesso in posizioni errate cosa cosa dobbiamo fare con queste persone cosa consigli per prevenire tutto quanto abbiamo elencato negli ultimi 40 minuti di problematiche quello che ti ho detto adesso c'è l'attività preventiva adattativa c'è l'attività con qualcuno che ti sappia educare al movimento cioè questo è il discorso educazione al movimento e esempio cioè sono in ufficio seduto 10 ore al giorno da 35 anni oramai la pensione la raggiungiamo ai 90 anni va bene lì lo sappiamo lo sappiamo perché devo continuare a stare male a uccidermi e a morire nelle abitudini sbagliate cioè quando tu prendi in gestione un cliente gli spieghi guarda che se tu ogni due ore fai una passeggiata barra fai questi due tre esercizi che sono fattibilissimi cioè in due minuti vai a produrre queste sostanze vai a mobilizzare quelle zone e vai a ridurre la componente del tuo fastidio da 10 a 8 da 10 a 6 cioè io ti assicuro che quando tu hai un dolore costante e io ti insegno una strategia per sentirlo la metà cioè a te non sembra vero perché è una roba che diventa insopportabile e porta le persone a uno stress a 360 gradi cioè quando tu hai male alla schiena non è solo un problema di avere male alla schiena perché il male te lo tieni però quando hai male alla schiena non puoi fare sport non puoi uscire non puoi andare di qua non puoi andare di là non puoi banalmente c'è gente che non riesce pure ad avere un rapporto sessuale o sostanzionare la propria donna perché ha dolore alla schiena mentre fa sesso ci sono persone che non riescono a seguire la loro passione mi piaceva andare in montagna e non ci posso più andare mi piaceva andare in bici cioè il problema grosso è questo e l'educazione è la base che ti consente poi di fare tutte le altre cose perché se prendiamo i tuoi clienti io sono sono convinto che il 90% di loro da quando si affida a te fa meglio anche tutte le altre cose cioè quando io ho un'educazione corretta al movimento quando vado in montagna non mi pesa più portare 20 kg di zaino perché la mia colonna sa come gestire quel carico e è allenata a fare quella cosa cioè la preparazione che non è solo bodybuilding ma è anche preparazione specifica alla vita cioè in un mondo di sedentarietà in un mondo dove viviamo seduti in un mondo digitale non può esimere da da questo cioè una volta ma banalmente lavorerai in fabbrica eravamo tutti in piedi e gira 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 cammina cammina su giù su giù su giù adesso abbiamo costruito quasi tutto è tutto automatizzato e noi siamo dei diciamo gestiamo degli schermi no il movimento è vita se non ti muovi muori cioè questo è da capire che il movimento è vita ed è un concetto che le persone devono stamparsi in testa se ti fermi sei morto muori cioè muori più in fretta quando non ti muovi cioè ma è studiato proprio cioè pensa a questa cosa qui no che dopo i 60 anni 65 anni se tu inizi se tu inizi una nuova attività di gli scacchi o un'altra cosa così o comunque fai proprio una roba nuova il rischio di demenza si riduce del 90% cioè del 90% non è da poco o comunque il fattore di rischio dato dalla sedentarietà tra problematiche di cuore problematiche metaboliche tipo il diabete che comunque possono essere cioè hanno una familiarità ma anche non so le neoplasie no tutto quello che riguarda la formazione di tumori è legatissimo a questa cosa legata a questa cosa è legata allo stile di vita cioè perché poi si dice ben sano il corpo è sano ma muoversi aiuta anche a mangiare bene cioè quindi è uno stile di vita no che uno assume se io mangio sempre male e incomincio a soffrire di reflusso gastroesofageo per esempio e ho un costante una costante problematica di reflusso vado incontro a un fenomeno che si chiama esofagite l'esofagite sul lungo periodo mi porta alla formazione di neoplasie cioè di tumori quello come il fumo cioè cambia proprio il tessuto a livello polmonare e diventa pericoloso tutto qua diciamo che sicuro qua andiamo poi a toccare argomenti molto più ampi diciamo che riassumendo per andare a prevenire tutti i fastidi che anticipavamo prima ma anche patologie molto ma molto più grave direi che si possono verificare possiamo partire da una base di movimento sportiva di attività fisica e di uno stile di vita corretto sicuro sarebbe la base per prevenirle perlomeno e sentirsi un po' meglio in questa vita troppo sedentaria dei giorni d'oggi quindi diciamo su questo ci hai fornito un sacco di spunti utilissimi un sacco di consigli utilissimi di come prevenire questi fastidi dolori ma anche come andarli a risolvere una volta che ormai si sono già presentati diciamo che in questa ora ci hai fornito tantissimi spunti utili direi da applicare subito abbiamo anche dovuto fare qualche critica ma era diciamo necessaria per un po' informare mettere sull'attenti le persone da evitare diciamo degli operatori del settore campati per aria dopo poche ore weekend di formazione purtroppo è così lo sappiamo cerchiamo di filtrare le informazioni e di scegliere soltanto i professionisti grazie Simone di essere stato con noi se vuoi lasciarci i tuoi contatti dove ti possiamo trovare e tutto quello che ci può servire per venirti a trovare in caso avessimo bisogno di te allora se qualcuno volesse mio nome lo puoi chiedere a te che ce l'hai altrimenti su Instagram mi chiamo osteosim sono offribile da ogni parte oppure niente io lavoro a Milano in piazza 24 maggio oppure nella zona di Lecco ok perfetto grazie ancora di essere stato con noi va bene ciao a presto ciao ciao dopo questa bella chiacchierata con Simone portiamo a casa tanti consigli utili e abbiamo imparato che spesso i fastidi e i dolori che sentiamo non sono generati nello stesso punto in cui li percepiamo e al di là dei classici mal di schiena e mal di collo i fastidi sono spesso frequenti in altre zone del corpo e sono anche molto più dolorosi un'alimentazione scorretta gli allenamenti sbagliati e fatti male fumo abuso d'alcol poco riposo e un sonno di bassa qualità vanno a incidere e sono tutti quanti la somma che poi causano i dolori in particolare allenamenti scorretti sul lungo termine possono portare a delle posture scorrette e soprattutto possono sfociare poi più avanti problematiche importanti e difficilissime da risolvere l'importanza di affidarsi sempre a un professionista e in particolare nel caso di terapisti manuali affidarsi a un professionista certificato e con dei titoli validi come risolvere e gestire i problemi acuti e cronici e per finire l'educazione al movimento come cura la sedentarietà come cura